Cos'è il libro possibile a Vieste 21, 22, 28, 29 luglio? Assessore Stadace, chi sono gli ospiti quest'anno? Quest'anno ci sarà un parterre di ospiti davvero interessante, importante, al pari dello scorso anno. Nello specifico avremo Lirio Abate, Gianrico Carofiglio, Brunello Cucinelli, Gerardo Colombo, Dario Fabri, Francesca Fagnani, Oscar Farinetti, il presidente Roberto Fico, Giancarlo Fiume, Pietro Grasso, Marco De Massi, Maurizio De Giovanni, Oscar Di Montigny, Franco Gabrielli, Nicola Gratteri, Marco Lillo, Enzo Magistà, Federico Palmaroli, Carlo Petrini, Sallusti e Palamara, Roberto Scarpinato, Silvestro Serra, Vittorio Sgarbi, che viene a parlarci di Raffaello, Folco Terzani, Marco Travaglio, Mario Tozzi, Dario Vergassola, Marco Zurzolo e per i bambini Geronimo Stilton. E poi c'è il fuori programma con Piero Angela Giugno. Sì, c'è un'anteprima del Libro Possibile il 28 giugno in Piazza Marina Piccola. Si terrà uno spettacolo bellissimo che si è tenuto nei teatri più importanti d'Italia. è uno spettacolo che proietterà delle immagini straordinarie del mare, dei suoi segreti, del suo fascino, e sulle parole di Piero Angela, che è il divulgatore scientifico per eccellenza e che nonostante abbia un'età veneranda ormai, è sempre pronto ad andare in giro in Italia per divulgare l'amore per la cultura. Assessore, quanto è migliorata l'offerta culturale a Vieste con il Libro Possibile? Ma sicuramente in termini numerici, insomma, non riusciamo a dare una risposta perché comunque il Libro Possibile si tiene nelle ultime due settimane di luglio che a Vieste comunque ha già di suo completamente sold out. Ma la cosa importante sicuramente è verificabile la qualità degli ospiti perché abbiamo avuto il sold out anche delle mille sedute l'anno scorso quindi significa che la gente c'è, apprezza e aspetta questo evento dall'anno scorso.